L'orchestra multietnica di Arezzo nelle scuole aretine con il progetto Sarabanda. Iniziando dai bambini piccoli della scuola primaria fino appunto al liceo musicale, cercando di portare attraverso il linguaggio della musica il valore della differenza culturale, che è un po' il messaggio dell'orchestra multietnica di Arezzo. Sono appena partiti dall'Istituto Comprensivo Cesalpino e dalla scuola primaria Montebianco dell'Istituto Comprensivo Vasari i laboratori musicali interculturali e le lezioni concerto. È stata un'occasione per incontrare, per vedere strumenti provenienti da tutto il mondo, per conoscere anche ritmi e musiche provenienti appunto da culture diverse. È un'occasione di arricchimento importante proprio per la crescita dei nostri bambini. Suonare insieme all'orchestra multietnica sarà una grande esperienza. E la musica, poi lo sappiamo, è un linguaggio universale. Il progetto Sarabanda è risultato tra i beneficiari del Bando del Comune di Arezzo dedicato alla realizzazione di progetti a favore dell'integrazione dei cittadini stranieri. Quando scapita un progetto come questo, che riesce a mettere invece in luce gli aspetti positivi della diversità culturale, li sposiamo in pieno perché sembrano pensati per noi. I laboratori e le lezioni concerto si concluderanno prima di Natale. Saranno dunque mesi preziosi per l'orchestra multietnica e i suoi musicisti chiamati a parlare di intercultura e condivisione di storie di vita guidate dalla musica. Le culture diverse sono non un problema ma una ricchezza per tutti noi. Quindi andare dai bambini, dai più piccoli, a far conoscere canzoni che vengono da diverse parti del mondo, a far conoscere strumenti musicali diversi, renderli partecipi facendo loro stessi suonare queste melodie. Penso che sia un modo interessante per passare questo messaggio della convivenza e del rispetto reciproco.